Ciao a tutti, oggi parliamo della lissencefalia, una rara condizione che può colpire alcune razze dei nostri cani. In questo video cercherò di spiegarvi che cos'è e fondamentalmente che cosa provoca e come potenzialmente si può diagnosticare. Fondamentalmente prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati alle patologie del cane e del gatto vi invito ad iscrivervi al canale. In questo video cerco di spiegarvi fondamentalmente in modo più semplice possibile a voi proprietari di cani e gatto alcune patologie che possono essere diagnosticate ai vostri animali. Quindi troverete una serie di video nel canale che ho già caricato che vi spiegano le patologie più frequenti, le patologie più rare e quindi avete diciamo un bel book di video da andare a vedervi. In più se volete sostenere il progetto vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace. Partiamo subito con la lissencefalia, una rara condizione che colpisce generalmente alcune razze di cani come l'asa apso, i fox terri rappelo ruvido, i setteri irlandesi e fondamentalmente in che cosa consiste. Allora voi dovete pensare che diciamo il nostro fondamentalmente cervello è formato da questa da questi solchi giri che ovviamente avrete visto le immagini di come è fatto un cervello e della corteccia cerebrale, vedrete tutti questi solchi, questi giri che rendono chiaramente caratteristico il nostro cervello. Anche nei cani e nei gatti esiste questa cosa quindi abbiamo questi solchi e questi giri chiaramente meno sviluppati perché fondamentalmente la corteccia cerebrale è molto più sviluppata nell'uomo rispetto ai cani e ai gatti ed è il segno diciamo dell'evoluzione fondamentalmente. Ecco la lissencefalia è fondamentalmente una rara condizione in cui c'è questi solchi, questi giri non si sviluppano normalmente e non sviluppandosi normalmente quindi fondamentalmente avremo dei defici neurologici in questi cani. Quindi avremo sicuramente dei disturbi comportamentali, una fatica all'apprendimento, possiamo avere delle convulsioni, possiamo avere anche una cecità e disturbi visivi. Fondamentalmente sono animali che non sono adattabili alla vita di casa e sono difficilmente addestrabili proprio perché fondamentalmente non hanno questa capacità fondamentalmente a causa di una malformazione di queste strutture che servono fondamentalmente diciamo per l'apprendimento fondamentalmente. La diagnosi si può arrivare tramite risonanza magnetica ma tendenzialmente anche tramite ovviamente la necroscopia e la biopsia cerebrale. È una patologia che ovviamente non ha cura proprio perché è una forma, è una malformazione concettualmente quindi non si può intervenire quindi sono animali che purtroppo nascono così e quindi sono tendenzialmente animali che hanno una vita molto più complessa chiaramente degli animali sani. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!